Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il matrimonio tanto atteso di Simona Ventura e Giovanni Terzi si è finalmente tenuto il 6 luglio a Rimini, con la presenza di oltre 200 invitati. Durante la cerimonia, agli sposi è stato riservato un regalo speciale nella sala del ricevimento, che ha suscitato grande curiosità tra i presenti. Rossella Erra, una degli invitati alle nozze della celebre conduttrice, ha partecipato al programma Rai 1 Estate in diretta per commentare il matrimonio di Simona Ventura e svelare il contenuto del regalo ricevuto da tutti gli ospiti. Ho qui con me la borsetta che Simona Ventura ha fatto trovare a tutti e dentro ci sono dei gadget, ha dichiarato. All'interno della borsetta gli invitati hanno trovato una pochette che riprendeva il tema cromatico del ricevimento, con disegni geometrici nei toni del celeste, arricchiti dai nomi degli sposi e dalla data del matrimonio. Tra gli oggetti contenuti c'erano un ventaglio, il menu della cena, un sacchettino di riso, una salvietta umidificata, degli occhiali e un segnaposto personalizzato a forma di microfono, in linea con le trasmissioni condotte da Simona. Questo kit di benvenuto ha fatto la felicità degli invitati al matrimonio della popolare conduttrice, che hanno apprezzato il gesto di Simona e Giovanni. Un regalo originale e curato nei minimi dettagli, che ha reso ancora più speciale e indimenticabile il giorno